Salve a tutti amici, un saluto da Gianluca Castellano e buon giovedì santo. Siamo nella cosiddetta settimana santa che ci porterà alla Pasqua e oggi, in questa giornata uggiosa, tiro un grosso sospiro di sollievo. Ma grande, grande, grande. Sapete perché? Perché in questi giorni, in realtà settimane, in me c'era una grande paura e pensavo adesso che vinciamo lo Scudetto, magari Inzaghi, ecco con la vittoria dello Scudetto, sente di aver raggiunto l'obiettivo, quindi magari andrà via, magari ecco cambieremo allenatore. Avevo questa grande paura. Invece oggi arriva la notizia che sarebbe imminente il rinnovo del contratto di Inzaghi, che non si sa se sarà rinnovato di un anno e quindi fino al 2026, oppure fino al 2027, data in cui, anno in cui, scadranno anche i contratti di marotta e ausilio. Quindi, diciamo, stando così le cose, il 2027 dovrebbe essere il cosiddetto anno zero, l'anno della rifondazione dove dovremmo ripartire senza marotta, ausilio, inzaghi. Ma forse stiamo guardando troppo oltre. Vediamo il presente e parliamo del presente. Allora, sospiro di sollievo, sono veramente molto molto contento perché è da qui che bisognava ripartire. Sì, da Simone Inzaghi, perché nonostante avesse un altro anno di contratto, perché il suo contratto scade nel 2025, io comunque avevo timore che alla fine di questa stagione lasciasse. E invece il rinnovo di contratto è una notizia, cioè, secondo me è la più bella notizia che noi interisti potessimo avere. E quindi, contento per Simone, contento per noi interisti, rinnovo meritato ampiamente. Cioè, Simone, in tre anni ha portato due Coppe Italia, tre Supercoppe italiane, uno scudetto quest'anno e sono sei titoli. In più abbiamo fatto una finale di Champions League che ci mancava da 13 anni. Io direi che più meritato di così si muore. Ma soprattutto cosa ha portato? Ha portato un gioco innovativo, quantomeno un gioco che all'Inter non si era mai visto. Penso di poter dire che non si era mai visto. Quindi, per tutti questi fattori, sia le vittorie in campo e sia le vittorie extracampo e sia il gioco che ha dato alla squadra, Penso che lui abbia non meritato questo rinnovo, di più, più che meritato. Quindi, contento per lui. Quindi, l'Inter ripartirà la prossima stagione dai suoi punti fondamentali. Marotta, Ausilio, Inzaghi. Poi, se sarà un Inter con Zang o senza Zang, questo lo sapremo a maggio. Vedremo se sarà un Inter magari con un nuovo proprietario che ha la possibilità di investire, che ha la possibilità di ripianare il debito. Questo lo scopriremo più avanti, ma per il momento ripartire con queste certezze è veramente la notizia più bella che un tifoso interista potesse avere. E quindi, questo rinnovo del contratto vedremo se sarà fino al 2026 o fino al 2027. Per Inzaghi ci sarà anche un aumento di ingaggio, perché attualmente percepisce 5,5 e il suo stipendio verrebbe adeguato a 6,5. Quindi andrebbe a prendere un altro milioncino in più. Che non fa mai male, ma tutto ampiamente meritato, come ho spiegato. E quindi, poi, la tempistica, come vi ho detto, vedremo se sarà 2026 o 2027. Per me, verosimilmente, il contratto potrebbe essere allungato di altri due anni, quindi fino al 2027, appunto per far coincidere proprio la fine del contratto di Inzaghi, Marotta e Ausilio. L'Inter, secondo me, si sta dando un tempo. Cioè, fino al 2027, cercare di confermarsi anno dopo anno in Italia e vedere di riuscire a vincere qualcosa in Europa. Ovviamente sto parlando della Champions League. Sappiamo che non è facile, sappiamo che ci sono squadre sulla carta più forti, sappiamo che ci vuole anche tanta fortuna per vincere la Champions, però quantomeno, ecco, provarci da qui al 2027. E poi nel 2027, diciamo, il ciclo di Inzaghi potrà considerarsi concluso e da lì ripartire con un nuovo allenatore, con nuovi dirigenti, con nuove idee. Però da qui a tre anni veramente può succedere il mondo, possono cambiare tantissime cose. Va a finire corna facendo. Sto per dire, Inzaghi rinnova, l'anno prossimo fallisce tutto. Cioè, nel senso che fallisce il suo lavoro, magari non arriva nemmeno al quarto posto e quindi perde tutto. In Champions League usciamo alla prima fase. Sto per dire, non succederà. Però, mettiamo caso, è altro che il 2027. Inzaghi verrebbe esonerato proprio a fine 2024. Quindi tra qualche mese. Questo per inciso. Questo per dire che nel calcio fare i conti troppo in avanti non porta da nessuna parte. Ma progettare il prossimo futuro, quello bisogna farlo. È una società che vuole tentare di affermarsi e di confermarsi come l'Inter. Fa bene a partire da suoi punti fondamentali, che sono l'allenatore e i dirigenti. Poi, i calciatori, ovviamente, i nostri top, i vari Lautaro, Ciala, Barella, questi qua, dovrebbero rimanere tutti. Non credo che abbiamo l'esigenza di vendere un top giocatore, almeno stando a quello che ci raccontano. Poi, a meno che non arriva poi un'offerta incredibile da 150 milioni, allora lì a quel punto, quantomeno, ti fermi e ci pensi. Però, fin quando non arrivano offerte faraoniche, offerte di questo tipo, dubito che l'Inter possa privarsi dei suoi top player. Detto ciò, ragazzi, vi saluto. Appuntamento ai prossimi contenuti. La sosta è praticamente finita. Sabato si scende in campo. L'Inter scendere in campo lunedì sera, lunedì di Pasquetta, contro l'Empoli. Non sottovalutiamo sta partita che l'Empoli, soprattutto a San Siro, ci ha sempre messo in difficoltà negli ultimi anni. Sempre. Quindi, cerchiamo di fare rapidamente queste quattro vittorie, perché dobbiamo festeggiare lo scudetto, il ventesimo. Dobbiamo mettere questa benedetta seconda stella e poi pensare definitivamente alla prossima stagione. Detto ciò, vi saluto e un abbraccio e alla prossima. Ciao!